Musica Nel fine settimana la Camera di Commercio di Firenze partecipa a Didatta, la più importante fiera sull'innovazione della scuola in Italia. La Camera, oltre a far parte dal 2017 del Comitato Organizzatore della Fiera, è presente all'interno del padiglione Cavaniglia della Fortezza d'Abbasso con un proprio stand. È un evento dedicato all'orientamento, alle opportunità professionali future per i giovani di oggi. Noi siamo presenti non solo come partner, ma anche con un proprio stand di 75 metri quadrati dove presenteremo, allestito anche come dire a sala conferenze, dove presenteremo i dati di Excelsior, che è lo studio che noi facciamo sul fabbisogno occupazionale espresso dalle imprese. Didatta 2022 sarà l'occasione per ribadire l'impegno della Camera nei confronti dell'orientamento scolastico e della formazione dei giovani al momento del delicato passaggio dalla scuola al mondo del lavoro. Insieme all'ufficio scolastico regionale, la Camera, durante didatta, ricorderà i seminari gratuiti per l'orientamento alla creazione di impresa, alle libere professioni e al lavoro, offerti dal network di oltre 40 soggetti orientarsi al futuro. Profili professionali che sempre di meno si trovano. La difficoltà di reperimento è salita per certi profili addirittura all'80%, come i profili relativi al digitale, alla green economy, altrimenti mediamente sul 40% la difficoltà di reperire i profili giusti. Quindi andiamo in questo salone anche a presentare ai giovani quelle che sono le opportunità future per le professioni più profittevoli, quindi orientarli al meglio anche nella scelta del percorso accademico, del percorso professionalizzante per i prossimi anni. Nei tre giorni della fiera saranno numerose e variegate le informazioni che i visitatori dello stand della Camera di Commercio di Firenze potranno ricevere. Presenteremo anche il progetto di Crescere in Digitale, altra opportunità destinata ai giovani. Presenteremo il nostro servizio Nuove Imprese, che è un servizio di consulenza gratuita per tutti coloro che hanno intenzione di aprire una nuova attività imprenditoriale. Presenteremo anche il sistema informativo Excelsior, quindi sul mercato del lavoro, sui fabbisogni professionali e formativi nella nostra città metropolitana. E avremo proprio un evento dedicato il venerdì 20 alle ore 15 presso il nostro stand, dove appunto ci focalizzeremo su tutti questi che sono i nostri servizi e le nostre attività principali sul tema. Conto alla rovescia per i voucher digitali 4.0 della Camera di Commercio di Firenze. Dal 18 di maggio alle 10 è possibile infatti inviare la richiesta di contributi a fondo perduto per investimenti in tecnologie digitali e formazione. Il valore del voucher può arrivare fino a 6.000 euro. Info sulla pagina dedicata del sito della Camera. Giovedì 26 maggio dalle 9.45 appuntamento all'auditorium della Camera di Commercio per il convegno La gestione sostenibile della crisi di impresa. Rivolto ai professionisti e ai consulenti che intendono approfondire il tema della gestione sostenibile della crisi di impresa. L'evento può essere seguito anche in streaming. Info e iscrizioni al link dedicato sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Transizione green e digitale. Se ne parla nel webinar su Zoom rivolto ad imprese e professionisti programmato per martedì 31 maggio alle 14.30 dalla Camera di Commercio Maremma e Tirreno. Info e iscrizioni sul sito di Union Camere Toscana. Scopri anche tutte le altre novità su www.fi.camcom.gov.it